scuola regole per il dopo pasqua pesano in arrivo un nuovo screening ancora importanti i numeri del focolaio covid registrato al carcere di pesaro variante gimarra è presentato presentato oggi il nuovo progetto a il dona le uova di pasqua al reparto di ematologia buona serata benvenuti al nostro telegiornale oggi è giovedì primo aprile e siamo in diretta per il consueto appuntamento con tutti gli aggiornamenti del nostro territorio e allora questa sera subito in apertura partiamo con la cronaca per parlare di un arresto nei confronti di una donna di 38 anni pesarese colpevole di aver picchiato un disabile accusato falsamente di averle sottratto del denaro le percosse della donna nei confronti del disabile sono state notate da un carabiniere non in servizio che stava passeggiando con il cane nella zona nonostante l'intervento del militare la donna non ha fermato la sua ira facendo cadere l'uomo dalla carrozzina il carabiniere ha così deciso di chiamare i rinforzi e la 38enne ha inflitto uno schiaffo anche ad uno dei militari giunti sul posto per fermare la situazione la donna dopo un primo trasporto in caserma e il proseguire dello stato d'alterazione è stata poi portata al pronto soccorso per l'esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio la donna è stata quindi arrestata con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale nonostante la caduta non è stata registrata nessuna conseguenza di rilievo invece per il disabile preso di mira dalla 38enne in questa apertura parliamo anche della scuola perché il nuovo decreto legge del governo presenta importanti novità per il ritorno in classe degli studenti che potrà avvenire anche in zona rossa fino alle classi prime della scuola media nel frattempo il comune di pesaro ha annunciato un nuovo turno di screening e test rapidi vediamo il servizio di daniele romagna ripresa delle lezioni dall'infanzia alle prime medie anche in zona rossa senza la possibilità da parte delle regioni di emanare ordinanze più restrittive per la chiusura degli istituti sono queste le prime indicazioni previste dal nuovo decreto legge del governo rappresentanti parte delle novità dedicate al mondo della scuola a partire dal prossimo 7 aprile al termine delle festività pasquali dunque asili elementari e le classi prime delle scuole medie accoglieranno nuovamente bambini e studenti a prescindere dalla fascia di rischio assegnata alla regione attendiamo la comunicazione ufficiale da parte del ministro dell'istruzione da poi diramare insomma alle alle famiglie ai docenti le scuole si sono subito adoperate proprio al momento della chiusura per fare in modo che la didattica a distanza quest'anno fosse organizzata in modo abbastanza chiaro definito e abbiamo anche consentito agli alunni con disabilità di poter essere in presenza insieme un gruppetto di compagni però chiaramente quello che ci auspichiamo è il ritorno in presenza di tutti gli alunni perché la scuola in presenza è la vera scuola insomma nella scuola le regole vengono seguite in modo scrupoloso da parte degli alunni primis che hanno dimostrato un forte senso di responsabilità e da parte poi di tutto il personale è vero che la scuola mette mette in circolazione tantissime persone quindi il rischio è presente però il rischio è più all'esterno naturalmente magari nel momento dell'arrivo quindi sui trasporti una volta che gli alunni entrano a scuola le precauzioni insomma ci sono per le restanti classi delle scuole secondarie di primo grado le elezioni in presenza ripartiranno soltanto con il collocamento delle regioni in zona arancione in questa fascia anche le superiori potranno vedere tornare tra i banchi al 50 per cento i propri alunni nel frattempo l'amministrazione comunale pesarese ha già annunciato l'avvio di un nuovo turno di screening in partenza il prossimo 8 aprile riservato attualmente per gli alunni delle classi prime delle medie l'amministrazione è pronta ad allargare lo svolgimento volontario dei tamponi rapidi anche alle restanti classi delle scuole secondarie di primo grado e agli istituti superiori non appena la ripresa delle elezioni in presenza verrà estesa anche a questi ultimi il comune di pesaro conferma la volontà di procedere con lo screening si parla del terzo screening che il comune di pesaro da gennaio a oggi metterà in campo l'otto e il 9 di aprile gli operatori sanitari andranno direttamente negli istituti scolastici nello specifico solamente le prime medie saranno in classe quindi i ragazzi di prima media chi vorrà avrà la possibilità di effettuare lo screening i genitori entro il 7 ci dovranno dare conferma così avremo la consapevolezza di quanti sono gli studenti da tamponare ci fa piacere perché comunque abbiamo avuto grande stimolo anche degli stessi dirigenti scolastici sono dalla nostra parte e ritengono che questo sia una forma per continuare l'anno in sicurezza e per chiuderlo nel migliore dei modi la nostra volontà è quella di andare avanti fino alla fine dell'anno scolastico quindi nel caso in cui dovessero rientrare nelle prossime settimane ragazzi di seconda terza media e ragazzi delle superiori la nostra volontà è quella di proseguire con lo screening ogni mese ricordo che nell'ultimo dl sostegni di draghi quello del 22 di marzo ha previsto un ulteriore incremento di 150 milioni di euro a favore delle istituzioni scolastiche anche per effettuare i tamponi nelle scuole quindi il mio augurio è che poi anche gli stessi istituti scolastici possano continuare in autonomia ma sicuramente l'amministrazione comunale gli supporterà e gli sosterrà nel caso ce ne fosse la necessità Ed ora gli aggiornamenti riguardanti il coronavirus tornano in linea con quelli delle ultime giornate i dati relativi ai nuovi contagi da covid-19 nelle Marche. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.448 tamponi, 2.989 nel percorso nuove diagnosi 2.459 nel percorso guariti. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 487, 117 quelli registrati in provincia di Pesaro Urbino. Alto invece il numero di decessi notificati nella serata di ieri delle 19 nuove vittime, 3 erano residenti in provincia di Pesaro Urbino. E sull'innalzamento dei dati registrati ieri dal Servizio Sanità è intervenuto nuovamente il Presidente Francesco Acquaroli che attraverso la sua pagina Facebook ha fatto sapere che nel calcolo dei numeri di ieri si era verificata un'anomalia riscontrata soltanto nel pomeriggio. Il numero effettivo dei 650 positivi però rimane un allarme valido per continuare a rispettare tutte le regole previste. Il Governatore ha concluso affermando invece che il dato odierno, tornato in linea con quello degli ultimi giornali, è un segnale della decrescita del contagio e dell'efficacia delle misure di sicurezza messe in atto. E sempre per quanto riguarda il Covid, un paziente pesarese di 60 anni ricoverato nel reparto di terapia intensiva è stato trasportato ieri attraverso l'elisoccorso al Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Per l'uomo, in condizioni gravissime vista la compromessa attività polmonare, è stata necessaria l'attivazione del trattamento salvavita in ossigenazione extracorporea, già praticata dal Campus Biomedico ad altri pazienti provenienti da altre regioni. E continuiamo a parlare di Covid perché sono ancora alti e importanti i numeri del focolaio Covid registrato all'interno del carcere di Villa Fastigi, dati in crescita tra i detenuti, mentre diminuisce il numero di positivi tra il personale. Tutti gli aggiornamenti in questo prossimo servizio. Non tendono a diminuire i numeri del focolaio Covid che ha avuto origine all'interno del carcere di Villa Fastigi. Nelle scorse giornate il garante regionale per i diritti alla persona Giancarlo Giulianelli aveva chiesto informazioni in merito alla situazione della casa circondariale ai direttori e ai responsabili sanitari della struttura, presso la quale negli ultimi giorni si è iniziata ad osservare una diminuzione della positività tra il personale, con casi ancora in crescita però tra i detenuti. All'origine del focolaio l'ingresso di un carcerato, inizialmente negativo ad un primo tampone, ma risultato poi positivo ad un secondo test effettuato. Come spiega il segretario regionale del sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria, Nicandro Silvestri. La situazione attuale purtroppo dobbiamo riscontrare un incremento dei positivi presso la popolazione detenuta, che oggi si segnalano essere passati da 33 a 60 circa positivi e fortunatamente abbiamo un abbassamento della positività tra il personale che da circa una ventina di contagiati è sceso, il numero è sceso a circa 12 unità. Solo un detenuto è ricoverato presso l'ospedale ma non risulta in condizioni critiche, diciamo. Risulta non essere stato questo contagio da una persona che è arrivata dall'esterno e arrestata, praticamente con i tempi di incubazione del virus ha infettato anche gli altri detenuti perché pur essendo stato risultato negativo il primo tampone, il secondo tampone poi è risultato positivo perciò è arrivata in incubazione il virus, diciamo. All'interno del carcere si sono organizzati con delle sezioni Covid, sono state prese tutte le misure che, ahimè, dovevano essere prese preventivamente però bisogna registrare che oggi comunque il carcere è in sicurezza nel senso che sono state prese tutte le precauzioni e il personale è stato dotato dei dispositivi di sicurezza. Noi come organizzazione sindacale comunque abbiamo chiesto sia alla struttura regionale, al TRAP che al Dipartimento di Amministrazione Presidenziale, di verificare anche mediante una visita ispettiva e di vigilanza se presso l'Istituto di Pesaro si sia ottemperato alle varie raccomandazioni fornite dai vari DPCM e a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8108 relativamente alla valutazione dei rischi biologici e al suo necessario aggiornamento all'attuale crisi pandemica. Vengo a precisare che con i garanti desinuti Luglianelli ci siamo sentiti e abbiamo chiarito in merito al suo intervento che era dettato dai dati forniti dall'Amministrazione Presidenziale. Comunque il Dottor Giulianelli ha assicurato che appena si rimetterà dalla sua situazione di salute sarà una visita personale al carcere di Pesaro a prendersi conto di persona della situazione. Ed ora ci spostiamo a Fanno perché la Giunta Comunale Fanese ha presentato il nuovo tracciato della variante Digimarra vera e propria strada della discordia che ha come obiettivo quello di alleggerire il traffico tra Fano e Pesaro. Tutti i dettagli nel servizio di Simone Celli. Complessa, articolata ma meno costosa e meno impattante per l'ambiente. La possibile futura variante Digimarra ha ora un nuovo volto. Grazie al progetto presentato dalla Giunta Fanese e che nei prossimi giorni sarà senz'altro oggetto di dibattito. Con la promessa che quanto prima, Covid permettendo, si darà il via anche a un vero e proprio confronto con i cittadini. Intanto il nuovo tracciato presenta senz'altro delle modifiche sostanziali. Una su tutte, l'eliminazione della tanto discussa galleria. Abbiamo presentato oggi il progetto di Sintagma che prevede alcune modifiche rispetto al progetto inizialmente previsto dal Comune di Fano. La prima variazione riguarda la larghezza della strada. Mentre prima era prevista una larghezza di 8,50 m, adesso è prevista una larghezza di 9 m, quindi due careggiate da 3,50 m più un metro di banchina per parte. La seconda modifica sostanzialmente è quella che elimina una galleria naturale nell'abitato di Gimarra sostituendola con un passaggio intorno alla collina, comunque nel rispetto dell'ambiente e lontano dalle case di Gimarra. Ci sono previste sei rotatorie. La prima lungo via Aldomoro, la seconda lungo via del Torrente, la terza lungo via del Carmine, la quarta lungo via di Villa Giulia, la quinta si trova per permettere l'accesso all'abitato di Gimarra e poi sulla Statale 16. Sono previste ovviamente la strada lunga 3.500 m circa, si sviluppa appunto da via Aldomoro fino alla Statale 16 e comprende una pista ciclabile che congiungerà via Aldomoro proseguendo la pista ciclabile degli interquartieri fino alla rotatoria di via del Carmine, quindi collegherà Gimarra con via Aldomoro. La pista ciclabile sarà bidirezionale sul lato solo e sarà larga 2,50 m. Il progetto quindi si sviluppa da via Aldomoro, si avvicina e passa dietro il campo da calcio della zona trave, lambendo in particolare un angolo della pista Zengarini e del circuito podistico Marconi, sempre lontano dalle case e sempre nel rispetto dell'ambiente con opere di mitigazione che renderanno invisibile questa strada per poi attraversare comunque il torrente Arzilla in prossimità della zona Carmine e con una rotatoria davanti appunto la chiesa del Carmine proseguire poi verso la Statale 16. Occhio di riguardo anche per l'area adiacente alla chiesa del Carmine. L'idea di collocare una rotatoria proprio di fronte al Sagrato aveva infatti provocato ben più di un mal di pancia. Abbiamo studiato con particolare attenzione la rotatoria davanti alla chiesa del Carmine. La rotatoria davanti alla chiesa del Carmine è un elemento particolarmente difficile da gestire e abbiamo valutato anche la possibilità di poter migliorare l'attraversamento lungo via del Carmine in quanto potremmo chiudere anche un piccolo tratto di strada non dando problemi alla viabilità interna. Abbiamo spostato la rotatoria del Carmine lontana dalle case e più in basso rispetto alla chiesa e abbiamo anche previsto in programma la possibilità di qualificare il Sagrato della chiesa del Carmine in maniera tale che possa essere anche più ariosa rispetto a quello che è adesso costretta così tra un bivio di due strade. Parte la progettazione della ciclovia del Foglia che sarà lunga circa 30 chilometri per un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro. Tutti i comuni coinvolti dall'opera hanno espresso parere favorevole a procedere nella sua realizzazione secondo la divisione dei compiti patuita e che sarà messa nero su bianco in un accordo di programma. Soddisfatto l'assessore regionale ai lavori pubblici Francesco Baldelli il quale ha affermato di voler procedere in maniera rapida per la realizzazione dell'opera. Il Comune di Gabice incontra i cittadini online dopo un periodo di assenza dal tradizionale appuntamento con i cittadini nei quartieri è in programma una rassegna di quattro incontri a partire dall'8 aprile alle ore 18 per il quartiere di Gabice Monte nello stesso giorno alle ore 21 toccherà alla zona centro il 13 aprile alle 21 sarà la volta del quartiere di Case Badioli e infine il 15 aprile sempre alle 21 potranno intervenire i cittadini del quartiere di Ponte Tavollo. Per la partecipazione agli incontri è necessario inviare all'indirizzo e-mail la collezione Asi Morbidelli sarà ospitata al Museo Benelli di Pesaro l'annuncio è arrivato dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci in attesa dei lavori all'ex tribunale le 71 motociclette storiche acquisite dall'Asi hanno quindi trovato una nuova collocazione al Museo Benelli la storica fabbrica che ha già ospitato la raccolta del celebre marchio. Come anticipato nell'edizione di ieri del nostro telegiornale è partita oggi la quarta distribuzione dei buoni spesa del Comune di Pesaro la prima consegna simbolica dei voucher ai volontari di quartiere è avvenuta questa mattina in Comune. La consegna dei tagliandi simbolici ai volontari di quartiere avvenuta questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Pesaro ha dato il via al nuovo giro di consegne dei buoni spesa messi in campo dall'amministrazione comunale per supportare le famiglie pesaresi in difficoltà economica a causa del Covid Oltre 2.200 le unità familiari interessate dall'intervento il cui valore complessivo per la quarta distribuzione è stato di 490.000 euro Avevamo appunto previsto stimato 400.000 euro sul fronte del numero delle domande della volta precedente e siamo arrivati ad aggiungere ulteriori 80-90.000 euro per dare risposte. Oltre che per i buoni spesa utilizzabili dalle famiglie nelle attività locali l'amministrazione ha ampliato anche le risorse destinate al fondo anticrisi Sul fondo anticrisi eravamo partiti da 400.000 euro quindi uno stanziamento importante del fondo anticrisi all'inizio dell'anno sono stati aggiunti ulteriori 380.000 euro proprio per dare risposta a tutte le domande che arriveranno Col fondo anticrisi siamo andati a intervenire per appunto sostenere le famiglie nella spesa dell'affitto o nel mutuo di prima casa proprio perché sono tra le spese maggiori che una famiglia deve affrontare a fine del mese quindi il fatto che ci siano state così tante domande circa 600 domande effettive più o meno è la dimostrazione di come l'affitto e il mutuo di prima casa siano comunque le spese più importanti tra le spese più importanti che una famiglia deve sostenere Prezioso l'aiuto e l'intervento dei volontari di quartiere 200 quelli impegnati per la quarta distribuzione dei buoni spesa mentre da inizio pandemia sono stati più di 700 quelli coinvolti per la consegna dei voucher ma anche delle mascherine, dei saturimetri e di tutte le altre risorse iniziative messe in campo dal comune In effetti siamo in tanti anch'io mi sono stupita, non pensavo fossimo così tanti ma c'è bisogno nel senso che è una cosa grande da fare e quindi è importante che più gente possibile ci dia una mano ci rendiamo conto che il periodo è veramente difficile e moltissime famiglie come dicevano in conferenza soffrono in questo momento e quindi poter aiutare in qualche modo anche solo con il nostro tempo a consegnare questi buoni ci fa sentire effettivamente orgogliosi Ieri la sezione AIL di Pesaro ha donato le uova di Pasqua al personale sanitario del reparto di ematologia dell'ospedale di Muraglia Vediamo Siamo qui nel reparto di ematologia per la consegna consueta delle uova di Pasqua quest'anno gentilmente offerta da un'azienda farmaceutica siamo qui con il dottor Bisani per fare questo piccolo omaggio questo piccolo pensiero al dottor Bisani e agli infermieri che tanto stanno dando e tanto daranno a questa giusta causa Qui con noi ci sono due nostri pazienti che sono rappresentanti un po' di tutti i pazienti che seguiamo qui praticamente c'è un giro di pazienti che è superiore a 4.000 per dare un'idea che ruotano attorno all'ematologia è chiaro che in un momento come questo non possiamo entrare nel reparto siamo in ambulatorio adesso però abbiamo desiderato che loro fossero presenti oltre alle nostre infermiere che sono qui e alle nostre data manager che gestiscono tutti gli aspetti relativi ai dati i dati sono importantissimi adesso vogliamo fare qualcosa di nuovo per i pazienti per riuscire a poter seguire e avere presto dei farmaci validi e che spesso arrivano sul mercato anni dopo quindi grazie a tutti è un'occasione per farci gli auguri per fare gli auguri a tutti quelli che insomma in qualche modo hanno a che fare con l'ematologia e cerchiamo di fare del nostro meglio La sezione di Pesaro vuole fare gli auguri di buona Pasqua chiaramente a tutto lo staff del dottor Visani e abbracciare purtroppo non in diretta tutti i pazienti che vengono curati dall'equip del dottor Visani con ottimi risultati vi ricordo che siamo tra i primi in Italia e anche in Europa per le cure nel reparto ematologia e soprattutto per le cure domiciliari e stiamo spingendo in maniera veramente forte e questo mi interessa dirlo per quanto riguarda la ricerca perché la ricerca è la parte più importante e la parte che ci aiuta ad andare avanti un grazie di cuore a Pesaro alla comunità di Pesaro perché ci ha fatto raggiungere un risultato ve lo dico veramente col cuore inaspettato per quanto riguarda la campagna delle uova di Pasqua Il momento di consegna si è poi spostato a Casa Ail dove le uova sono state donate ai pazienti della struttura dopo la benedizione pasquale presenziata da Don Marco Di Giorgio E allora acquistate anche voi le uova dell'Ail per fare bene e per aiutare questa importante associazione del nostro territorio e adesso andiamo con la programmazione di Rossini TV come tutti i giovedì questa sera alle 21.15 torna una nuova puntata di Insieme a Canestro Cadeddu questa sera intervisterà Federico Pieri che è ex giocatore della Vittoria Libertas poi l'ape animatore Andrea Rinaldi responsabile dell'intrattenimento e ci sarà anche Roberto Tommassoli cofondatore dell'Inferno Bianco Rosso Vi ricordiamo anche le celebrazioni pasquale in diretta a TV oggi alle 18 avete visto in cena domini domani invece alle ore 18 ci sarà l'appuntamento con l'adorazione della croce sabato alle ore 19 ci sarà la veglia pasquale per arrivare poi domenica per Pasqua alle 11.30 trasmetteremo in diretta appunto la messa pasquale e poi vi ricordiamo anche che domani venerdì torna una replica di Casa Rossini che tra l'altro riprenderà la prossima settimana nella puntata di domani vedrete Dario Andreolli che è vicepresidente del Consiglio Comunale di Pesaro e poi Fabrizio Battistelli che è il presidente dell'ente Olivieri e ci sarà con noi anche Francesca Paolucci sindaca di Tavuglia domani l'appuntamento è alle 10 e allora seguite la nostra programmazione su Rossini TV vi ricordo che ci potete seguire non solo sul canale 633 ma anche sul nostro sito rossinitv.it oppure sulla nostra pagina Facebook vi ringrazio per essere stati con noi anche questa sera domani vi aspettiamo con la nostra rassegna stampa in diretta alle 7.20